La squadra sta crescendo a livello di compattezza, a livello di personalità. Credo che domenica abbiamo dimostrato di dare questo passo in avanti a livello di compattezza, di grinta, di voglia e di determinazione. Sicuramente è una bella emozione. Io ho Samba San Benedetto e nel mio cuore, si sa, non mi nascondo dietro, però adesso ad oggi sono in una piazza importante, sono a Chieti dove sono stato accolto bene dai tifosi e devo lottare e dare il 360% per la squadra. Quindi è una partita che vivo ogni giorno in allenamento, ma nessuno insiglia, sono partite che si va, ci gioca, nel senso che il migliore vinca, ma senza paura, assolutamente no, anzi nessuno. A partita di calcio, di cui noi portiamo le nostre armi e loro portano le loro armi, il migliore vinca.